Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. In un vero e proprio capolavoro di ideologie e di pensiero unico politicamente corretto, la Repubblica, rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolita, critica in maniera sperrima la sinistra antisemita francese. Ma di quale sinistra antisemita si va parlando, domandiamo noi? Semplicemente di quella sinistra che non ha aderito in toto al verbo liberale atlantista e osa ancora, con ottime ragioni peraltro, criticare le politiche imperialistiche di Netanyahu e di Israele. Tanto basta per gli araldi del pensiero unico di Repubblica per essere bollati come antisemiti, da che il trucco è sempre il medesimo, identificare la critica di Israele con l'antisemitismo, quando in realtà si può benissimo essere, come ad esempio io sono, contro l'antisemitismo e contro le politiche imperialistiche di Israele. Non è affatto detto che chi critica Israele debba essere antisemita. Insomma, Repubblica critica quella parte della sinistra che ancora non si è del tutto allineata al verbo unico liberale atlantista, da che l'ideale di Repubblica è quello della open society, centrata sul liberismo assoluto come governo dei mercati e dei ceti possidenti a loro beneficio esclusivo, e sull'imperialismo atlantista con annesso imperialismo di Netanyahu. Questo è l'ordine dominante e dunque Repubblica rampogna senza pietà quella sinistra, non ancora del tutto aderente al verbo unico della globalizzazione liberale atlantista e filo-israeliana, sempre e comunque.